Sabato 3 dicembre alle 16.30 sarà inaugurata nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone la mostra Tonino Guerra, diario di un poeta, curata da Michela Canziane e Marco Minuz. Si tratta del più vasto progetto espositivo ospitato in uno spazio museale italiano dedicato al poeta, romanziere, sceneggiatore, pittore e scultore di Sant'Arcangelo di Romagna. Tonino Guerra è infatti un artista eclettico e poliedrico e la mostra darà occasione di apprezzare ogni manifestazione dei suoi percorsi artistici, acquerelli, pastelli, dipinti, affreschi, sculture, ceramiche, libri d'artista e grafiche. La selezione di circa 100 opere sarà disposta in gruppi associati a brani della sua produzione poetica. In questo modo parole ed immagini dialogheranno fra loro permettendo di comprendere il legame profondo che le unisce e di percepire come le immagini siano riflessi della poesia dell'artista e della sua straordinaria sensibilità nel vedere il mondo. La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio 2012 e sarà corredata da una serie di eventi collaterali che andranno dal cinema, alla musica, alla poesia, oltre a conferenze, percorsi assistiti e laboratori.